ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale questo non lo so ho acceso la videocamera sarà un video di chiacchiere così un po' random ho acceso la videocamera ho detto oggi volevo pubblicare un video ma non avevo niente di particolare in programma a volte faccio un po' una scaletta dei video a volte vado un po' a braccio oggi è lunedì ho passato la giornata a casa spesso non lavoro il lunedì il negozio nel quale lavoro peraltro per mezza giornata è chiusa è chiuso e io il lunedì spesso sto a casa quindi è proprio una giornata che dedico alla casa faccio le lavatrici lavo per terra insomma faccio tutte le le mie cose le commissioni la spesa e oggi ho pulito affondo tutta la casa e ho terminato ragazze di sistemare il bagno sono contentissima perché ho eliminato tante cose ho fatto un bel bustone da regalare alle amiche ho ottimizzato e scoperto e ricordato di avere tante cose che quindi ho messo in maniera molto più fruibile perché prima stavo finendo per utilizzare sempre le stesse cose e peraltro appunto non non utilizzavo certe cose che non ricordavo da avere ho riorganizzato anche qua la scrivania dove appunto dove mi trucco e in pratica ho fatto due cestini che vi faccio vedere allora uno è questo e ho scoperto di avere una marea di prodotti per la cura delle unghie mancano gli ultimi tre che mi ha mandato sally hansen che sono ancora impacchettati nella loro scatolina e neanche ci stavano cioè tutti questi sono prodotti curativi quindi basi top coat indurenti rinforzanti eccetera eccetera top coat matt top coat per fare l'ombre c'è di tutto quindi voglio un po puntare su quelli che ho visto che sono già a buon punto d'utilizzo terminarli insomma andare a smaltire un po di cose quindi li ho appunto messi in questa cassettina e finalmente farò credo più spesso la manicure ultimamente rimandavo la manicure continuamente perché avevo le robe sparse ovunque magari avevo poco tempo e dovevo andare a recuperare le cose da mettere sulle unghie basi eccetera lì me li mette non sapevo dove fossero quindi ho fatto questo bel cestino e ho ottimizzato le cose mi sono resa conto di avere una marea di roba ho poi raccolto ho poi raccolto tutte le cose per fare la manicure che siano appunto le lime lo spingi cuticole il taglia cuticole il taglia unghie eccetera in questa tazza che avevo preso da da tiger e finalmente quindi ho già le idee più chiare poi ho fatto un altro cestino identico a quello sempre di camp sono tantissimo coi cestini nili di ikea peraltro le mani ruvidissima perché appena ha finito di fare tutti i mestieri e non uso i guanti quindi ne approfitto per mentre chiacchiero con voi mettere questa crema per le mani che è di come si chiama quel super drag credo che sia si è di super drag ma l'aveva portata vittoria da londra quando era andata credo a trovare una volta suo fratello e così la finisco perché anche questo è a buon punto quindi ho trovato un sacco di robe da finire mamma mia quanto è utile mettere mettere ordine e dicevo ne ho fatto un altro identico per la skin care perché mi mi sono resa conto che la skin care la faccio molto più volentieri seduta qua la sera perché spesso prendo una tazza di tisana e magari metto anche un video e quindi in bagno in piedi insomma ovviamente non sto comoda come qua alla scrivania poi altre cose che vi volevo dire questa settimana sono stata al lancio del kit sopracciglia di nicole che tanto ha destato scalpore perché pare ora io non ammetto che non ho seguito la vicenda però pare che praticamente molte ragazze abbiano detto che questa cosa era stata annunciata due anni fa e magari e quindi detto cosa ci ha messo due anni per fare un kit che e consta semplicemente di prodotti scelti ma magari era stata annunciata due anni fa e poi è slittata ora veramente non la so questa polemica comunque l'evento era molto carino lei è bellissima l'avevo già vista dal vivo devo dire che l'ho trovata ancora più bella di quando l'avevo vista che si era praticamente appena sposata quando l'avevo incontrata io eravamo state insieme a un evento con belen per bellissima l'ho trovata stupenda altissima coi tacchi con un abito meraviglioso ci ho chiacchierato ragazze io magari andrò controcorrente però la trovo sempre ma anche l'altra volta una ragazza molto dolce molto umile molto disponibile molto carina insomma a me piace come come ragazza non mi è mai non ho mai condiviso le polemiche su di lei anche tutte le polemiche che riguardano il modo in cui spende i soldi cioè non fa proprio parte di me i soldi sono i suoi e ne può fare veramente quello che vuole che nicole compri o meno borse di marca o di lusso non cambia né la mia situazione né quella della fame nel mondo né quella dei problemi della gente ritengo che i suoi soldi lei se li guadagni e quindi è libera di spenderli come vuole questo è il mio umile parere ma la penso così su tutto io ovviamente attualmente non mi posso permettere nemmeno uno shopping sfrenato coi saldi da bershka ma questo non cambia la mia situazione perché ho altre priorità in questo momento e i miei risparmi cercherò di appunto indirizzarli verso altri scopi di cui vi ho parlato recentemente chiusa la parentesi abbiamo composto il kit c'erano praticamente questi kit che erano senza decorazione e hanno realizzato questo tavolo molto carino dove tu potevi decorare la scatola come ti pareva utilizzando glitter e passamanerie adesive io ho fatto questa scatola molto sobria ho disegnato appunto delle sopracciglia con gli strass e poi anche delle ciglia appunto quindi una donnina questa è la bocca e dentro c'è appunto il kit il kit appunto era composto per tutte dagli stessi prodotti perché i prodotti ovviamente hanno una tonalità che è quella scelta da Nicole dentro la mia scatola è così ci ho messo la mia polaroid e ho scritto il sopracciglia top va bene questa scatolina non so dove la metterò perché sono in un periodo minimal comunque i prodotti sono la full proof brow powder questa qua nella colorazione numero 3 e per me va benissimo la numero 3 perché io avevo già la 3 questa qui ce l'avevo già e perché mi era stata inviata e mi trovo benissimo mi è cascato credo il pennellino e mi trovo benissimo quindi è una tonalità che secondo me ben si sposa oltre che per le bionde anche per le ragazze con i capelli un po' più scuri perché ha comunque due vedete tonalità magari io posso pescare un po' più da questa e mettere questo solo veramente all'inizio ma per me la 3 va bene perché avevo avuto anche la 5 e la 5 la sto usando molto meno giusto per fare la codina perché appunto è troppo scura poi gli altri prodotti sono la precisely my brow pencil nella colorazione 2 in questo caso io invece uso sempre la colorazione 1 la colorazione 2 ritengo che per me sia veramente molto chiara la proverò ve la faccio vedere adesso eccola qua la proverò all'inizio proprio delle sopracciglia e terminerò con la 3 che invece ho perché la 3 è quella no non è questa scusate eccola qua io ho la 3 e ve la faccio vedere accanto eccola qua questa è la 2 e questa è la 3 a me la 3 va benissimo quindi la 2 è chiara proverò a darle uno scopo utilizzandola all'inizio delle sopracciglia poi gli altri prodotti sono il 3d brow tones che io non avevo invece non ho mai provato ed è sinceramente non so nemmeno che cosa sia è un mascara che ha dei riflessi violacei perché vedo che c'è scritto rich purple non lo sapevo e quindi lo andrò a provare poi c'è il 24 ore brow setter che anche questo non l'avevo mai provato è un gel invisibile 24 ore per fissare alle sopracciglia quindi questi vanno vanno bene per tutto insomma un fissatore va bene per tutti e poi il brow bow conditioning primer questo mi sa che l'avevo già provato nutriente primer per le sopracciglia base nutriente per le sopracciglia quindi anche questo è una base nutriente con questo cosino qua quindi probabilmente questa va bene comunque per tutte quindi questo era il kit onestamente la dico proprio così un po' fuori dai denti mi sembra che a volte ci siano troppe polemiche per cose cioè voglio dire ridimensioniamo si tratta di make up niente di così grave secondo me vabbè volevo anche dirvi un'altra cosa ragazze che dove dove l'ho messo il corpo del reato eccolo qua sono stata da sephora per i saldi volevo prendermi la huda new news ammetto che l'ho vista la mia amica francesca lady mija l'aveva pubblicata in una foto poi le ho scritto le ho detto franci è bella è bella dimmi di no dimmi che non vale la pena lei mi ha detto va bene ti dico che non vale la pena ma è meravigliosa in realtà sono andata a vederla di persona e a parte che aveva i buchi nel cosi dei glitter nei colori glitter talmente sforciati che non si vedevano più anche gli altri erano tutti ciancicati distrutti era una palette insomma che non riuscivo bene a giudicare da quanto era devastata spero che la rimettano come tester un po' più nuovo nei prossimi giorni ripasserò a vederla però vi devo dire che a parte i glitter che sono stupendi e bellissimi perché abbastanza appunto intensi i colori matt mi sono sembrati troppi troppo chiari per cui una resa sulla mia pelle che magari non gradisco troppo al che sinceramente non mi sono troppo sentita di spendere questi 64 euro sono e volevo prendere assolutamente la gingerbread però ho chiesto appunto se ci fosse ancora ma hanno detto assolutamente no è finita era una limited edition non tornerà assolutamente più bla 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 nei giorni successivi ho notato che molte ragazze facevano shopping da Zara sia amiche sia conoscenti sia su Facebook da Zara da Sephora con un 15% di sconto valido per tutto gennaio su un solo prodotto e mi sono chiesta com'è che avessero questo 15% mi hanno detto che era stato consegnato loro alla cassa con gli ordini online durante il periodo natalizio siccome io nel periodo natalizio ho speso dei soldi per fare dei regali non io personalmente ma con la mia tessera una collega ha acquistato perché praticamente avevo lo sconto del 20% che le ho ceduto ha acquistato per più di 100 passa euro mi pare 150 euro di merce non c'è stato dato alcun 15% di sconto per gennaio allora sono andata nella Sephora dove avevamo fatto questo acquisto e ho espresso appunto questo disappunto e le ragazze e me sono andate nel retro del negozio e mi hanno portato un tagliandino e mi hanno detto che appunto me lo davano e vabbè in questo modo ho di nuovo chiesto se fosse arrivata la paletta la gingerbread e mi hanno detto ah sì è tornata ce l'abbiamo peraltro una mia amica contemporaneamente in zona Buenos Aires nella Sephora della metropolitana Lima la trovate anche lì ne avevano tante quindi ragazze è assolutamente tornata quindi sì limited edition forse fino all'esaurimento delle scorte esistenti non lo so fatto sta ho ceduto e me la sono comperata perché devo dire che il range di colori è molto molto più a mio gusto utilizzabile per i trucchi che piacciono a me rispetto alla new nudes di Anastasia sì di Uda e quindi l'ho presa peraltro questo colore qua questo colore qua e questo mi piacciono dai pazzini anche questo arancio e questo insomma la gamma dei rosa e questo bel bruciato rossiccio marrone mi piacciono tanto però penso siano particolarmente utili anche questi rosa per esempio da fare per sfumare la piega questo nocciola chiaro mi piace tantissimo la trovo bellissima ho questo colore non vedo l'ora di realizzare un make up e magari dirvi che cosa ne penso voi l'avete presa e soprattutto se avete preso la Uda mi dite che cosa ne pensate cioè la compro non la compro? ditemi un po' voi e vabbè detto questo devo dire la verità non ho avuto un campioncino che fosse uno non che a me servano spesso infatti finisco devo dire la verità per regalarli però volevo farvelo sapere poi volevo far vedere delle cosine che ho ricevuto da Codalie Codalie praticamente mi ha mandato questo pacchettino molto carino con scritto 2019 it's detox time con questa linea appunto per detossinare la pelle quindi post vacanze di Natale se vi resumo che le persone abbiano mangiato eccessivamente vogliono appunto deturarsi depurarsi e fare detox magari anche a livello di pelle l'alimentazione non proprio top fa risentire non nel mio caso perché io ho mangiato molto bene un po' peggio del solito ma bene durante le feste perché non ho avuto questi grandi pranzi di famiglia però i prodottini sono veramente carini Codalie fa delle cose che mi piacciono tantissimo peraltro è in arrivo il video della new skin care del periodo appunto gennaio febbraio marzo quindi i tre mesi che vanno prima della primavera vi faccio vedere quali sono i prodotti che ho scelto e credo che ci saranno dei prodotti di Codalie che ho avvistato nel mio bagno appunto con store pulisti i prodotti sono questa maschera instant detox per tutti i tipi di pelle è una maschera appunto detossinante eccola qua poi l'altro prodotto è un creme gommante dus quindi per pelli sensibili gentle buffing cream quindi una crema gommante quindi non è esfoliante non so come sarà sono curiosa di provarla perché esfoliante mi immagino i microgranuli mentre gommante forse fa si la mettete e fa i pirulini non lo so quindi da da provare anche anche questa sapete che comunque io al di là del detox tutto ciò che sfolia affina la grana lo adoro poi c'è il vino pur serum infusion anti imperfeccion dice libera e chiude i pori e affina la grana della pelle con un complesso di oli essenziali purificanti polifenoli antiossidanti e acido salicilico esfoliante magari questo potrei utilizzarlo semplicemente nella zona T quindi mento e naso che sono un po' più appunto zone impure per me quindi potrei fare un'applicazione siero la mattina a zone e quindi potrei dare un senso anche se un senso non ce l'ha un senso a questo a questo siero quindi però insomma se avete la pelle invece impura pori dilatati eccetera ecco ve lo segnalo e ultimo prodottino è il vino active oil da notte quindi olio da notte detossinante rigenera detossifica di fatica olio oliduver di rosa moscata olio essenziali di neroli e di lavanda antirughe detossinante per tutte le pelli questo invece mi ispira moltissimo a parte che è bellissimo il flacone guardate quanto è accattivante con il suo contagocce se mi volete conquistare prodottini col contagocce quindi questo è veramente molto 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 carino e questi quindi erano le cosine di Codalie altro pacco che ho ricevuto da questa azienda che si chiama Freshly e vi volevo far vedere Freshly Cosmetics mi ha mandato questo bel pacco molto carino a parte che dentro c'erano questi adesivi che adesso vi devo fare il video anche sull'agenda sta arrivando mi hanno mandato appunto questo questo pacco c'è scritto crediamo nella cosmetica toxic free eccolo qua a parte che la scatola è veramente molto carina è tutta con la carta riciclata veramente un bel pacco anche a vedersi guardate quanto quanto è carino eccolo qua mi avevano chiesto di scegliere se volevo provare viso corpo capelli eccetera eccetera siccome viso veramente troppe cose e per il viso non mischio nel senso inizio la skin care e la porto a termine ho scelto invece il 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 kit che avesse un po' di prodotti misti per corpo e sì anche un tonico il kit che ho scelto ha uno scrub che si chiama revitalizing body scrub con semi di fragole eccolo qua ed è certificato come prodotto appunto naturale bio assolutamente questo e voi non lo vedete perché il tubicino è tipo in metallo tipo i vecchi dentifrici di una volta quindi uno scrub corpo poi l'altro prodotto che c'è è questo è in metallo il purifying facial toner con il lime con il lime insomma al sempre detox quindi molto nell'ottica di codali potrei abbinarlo visto che non c'è un tonico nella linea e sono prodotti anche ovviamente per vegani e ve lo segnalo ed è questo qua e poi ancora ho scelto un firming body cream con la caffeina quindi una crema corpo rassodante con caffeina e questa quindi va dritta dritta nei miei prodotti per la cura del corpo sapete che quando ho fatto l'organizzazione bagno ho fatto una scatola con tutti i prodotti anticellulite rassodanti eccetera e poi uno shower gel con avocado quindi bello nutriente perché l'avocado è ovviamente molto nutriente e per terminare uno shampoo con sempre in linea detox con pompelmo eccolo qua questi prodotti ovviamente li andrò ad utilizzare la scatolina era veramente deliziosa con tutti c'era fatta proprio bene quando l'ho aperta ho pensato ma che caruccia questa scatola mi è piaciuta tantissimo basta ragazze volevo giusto far due chiacchiere e aprire con voi queste novità ma ne ho altre perché vi volevo far vedere le novità di Fenty Beauty delle così non preannuncio non preannuncio volevo fare anche dei get ready with me perché certe cose sono di make up basta poi mi è arrivata tanta di quella roba carina sempre da Emanco sapete che io ricevo i gioiellini di Emanco e li adoro e sono una fan spiegatata ho questa pochettina piena piena di collanine orecchini eccetera da farvi vedere quindi bene fatemi sapere della palette di Uda perché devo procedere oppure no all'acquisto devo decidere ovviamente dal momento propendo per il no però se qualcuno di voi l'ha comperata la sta usando e mi dice guarda no Silvia anch'io pensavo attendo attendo di essere estigata all'acquisto vi mando un grande bacio e ci vediamo domani con un nuovo video ciao